Ragazzi benvenuti in Payday 2 Questo non è un video normale Vi annuncio subito che è un video troll Devo trollare una persona E chi meglio del mio migliore del network Se non random Il migliore di Payday 2 del mio network Devo assolutamente trollarlo Ora io lo sposterò in stanza Gli chiederò, speriamo, dica di si Di giocare una partita a Payday 2 A scazzo, senza registrare Poi vedrete che li combino Ok, spostiamo random Metterlo domani pomeriggio Sì, dopodomani Sì, sì, sto spostato Ora, la parità a Payday Ma registriamo? Ma no, non ci voglio Ah, vabbò, dai, allora scazzo, ci sta Ma buono Sei già dentro? Sì, lo stavo proprio aprendo adesso Dimmi il lavoro, cavolo Uno vuoto Così scazzo facciamo la gioielleria Che è abbastanza facile Un'ora, un'ora Vai, Dragon Vai, dentro di maschera E giù a spaccare i culi Oh, spero, mi ricordo di tastico oggi Ah, subito così? Sì, tipo animali Li mettiamo giù Oh, come si mettono giù con la Esque? Che pirla E tranquillo Adesso ci saranno dei bastardi Ci chiameranno l'assalto Ecco Ecco Facciamoli il culo Con qua un'arma over power Ma li stai legando? No, non serve Perché tanto adesso noi dobbiamo Fotterci le borse Ah, non è in stelta allora No, no, niente in stelta Voglio farti vedere Sono bravo Sono bravo Sono bravo Sono bravo anche Che ne le è lausa Che ne le è lausa Che cazzo è un bug? Oh, mi stanno utilizzando No, 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 no Quanti cazzo ce n'è? No, non ci credo Ma che succede? No, no Ma che cazzo succede? È impossibile Tutta il figura di merda che faccio Scusa, adesso ti porto te Ma che... Ma che... Con la magia È un bug? Ma che pazzesco? Ma sì, c'è qualcosa che non va Lui Che cazzo sta succedendo? Quanti days? Vabbè, è pazzesco Ho messo giù le munizioni No, vabbè Ma è impossibile scappare No, vabbè Ma a questo punto Scusa ma non so se C'è Vabbè Vabbè, magari era un bug Di un'ondata Adesso finiscono Non so se l'hai visto Ma ci sono due Ho visto E mi prendono Ma che cazzo è tutti questi taser No, vabbè Ma è pazzesco Ma guarda quanti ce n'è Ma guarda quanti ce n'è Adesso sto rubando i gioielli Adesso vengono a vedere Ma è stranissimo No, no Guarda quanti No, ma non ci credo Ma può essere un bug Tu che conosci bene il gioco Ma no, è sicuramente un bug È successo qualcosa Ok, è finito l'assalto Lui Un attimo Dove sono? Ti hanno preso Eh sì, fuori Fuori, fuori Finti colpi Anch'io ho finito i colpi Siamo morti Ah no, forse ce l'ho fatta No, sono morto Ti vengo a salvare Oh, Lu Lu, ti chiedo scusa Ma veramente io Sti cazzo Ma quanti ce n'è Coprimi, coprimi, coprimi Vai, vai Sto buttando giù io Bella Lu Mi sta salvando Mica se sei pro Mica io Puttana Lu Te lo giuro Mi ha preso Vai, tranquillo Ci credo, ci credo No, è sto cazzo di bug Guarda Allora Ma guarda quanti ce n'è Sto vedendo di quadratura qua Oh Ecco, sono a terra anch'io Oh, Lu Va beh, era un bug secondo me Dai, facciamo un altro Ma sì, per forza Io non lo so cosa dirti Cioè, io l'hai visto pure Vai Ah, proprio in load Senza in No, loud, loud È una palla in stealth Ci vuole una vita E allora Killiamo tutto Vai, vai Tranquillo Iniziamo io Inizio a fottere subito la roba Perché poi Arriva l'assalto Stay fast Uuuh, uuuh, uuuh Uuh, uuuh, uuuh, uuuh Quanti cazzo gli scudi ci sono sono ancora a terra ma non ci credo ma quantissimo no vabbè ma basta il culo ma qua c'è qualcosa che non va ma prima tutti i taser adesso tutti scudi scusami sì ma ci sono due miliardi di scudi ma mi hanno già fatto il culo ah mi ha tirato su bella no è pazzesco cioè no vabbè eh vabbè oh 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 eh sono a terra ancora ma vaffanculo no vabbè ma che cazzo ma che gioco di merda ma vaffanculo ma ma che cuore ma sono di grido ma vaffanculo ma scusa lui no no vabbè hai ragione eh ma guarda quanti scudi sono durato 20 secondi porca puttana una volta che ci siamo insieme voglio far vedere che riesco vaffanculo guarda guarda è già morto anche lui ma che cazzo ma guarda ma quanti sono ma quanti io l'ho disistato ma guarda quanti ma io rido per gli scudi ma come corrono veloci morti tutti morti tutti ma vaffanculo no basta scusami ma io facciamo l'ultima era un bug ma che cazzo no veramente scusami ma vabbè ma prima tutti i taser modi ti riproviamo l'ultima volta non siamo durati un secondo siamo durati dai ma proviamo l'ultimo dai magari neanche ti diverti più vabbè non ti lanciano lì giù lo dobbiamo fare può proteggerci di più perché so troppo ma sono già terra ma che è successo ma chi mi ha steso ma che cazzo ma che cazzo sta scoppiando scusami eh no no aspetta no aspetta no mi è arrivata un'esplosione meno male che non stiamo registrando non ti rendi conto no vabbè lui veramente facevo una figura di merda davanti a tutti io che faccio ti posso oh 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 li scudi li scudi sono a terra mi sono rialzato da solo no ma ce n'è uno lui ah ok ma non lo so io sono caduto a terra e mi sono rialzato da solo ma ti rendi conto no vabbè ma tu io ti chiedo scusa lui se sono sti bug ma io onestamente non li conosco ma è sicuro che sono bug non è che sei tu che magari non sai ste cose nuove no sinceramente un po' mi tirano anche i coglioni guarda quanti scudi no no io vado su ma che cazzo è stata una barna ma lo trovo di tutto stavo cadendo dall'alto anche ma che succede sulla terra non mi farebbe spegnare guarda guarda ho trovato una tessera può servire no ma che cazzo succede io adesso li faccio una di quelle faccio una di quelle se vedi adesso mi sono alzato da solo sono morto sono morto ma non capisco niente ma che succede ma guarda quanti ne stanno arrivando ma hai mai visto una roba del genere no io non ho mai visto visto ma io sono cauto a terra due volte mi sono risvegliato da solo il lu io ti posso dire la verità io dopo tre mi sento mi vergogno perché dopo 3 30 secondi ero già vedio a grigio c'è grigio vuol dire che ero morto tre volte io a questo punto non ho proprio proprio voglia lu basta scusami ma no tranquillo tranquillo intanto mi saluti sul mio canale come sul tuo canale lu no dico in salute nel no dico ma tu hai detto che non stavamo registrato no infatti non ho registrato dico saluti mio canale quando scendi saluti mio canale ti sposto l'istanza dico ora un attimo a dormire un po' luca ma che senso stavi registrando scusa come stavi no lu no veramente ti pago quello che vuoi pubblicarlo perché mi spostava cioè veramente no è una mod è una mod modificato tutto veramente lu te lo giuro l'ho messo io che erano solo a te veramente sì e te che modificavi tutte le esplosioni prima c'erano tutti sì ma no non ci credo ma sei un bastardo te lo giuro ho fatto tutto il gioco tutta la partita girando mi sto piangendo sto piangendo ma tu lo sai che io stavo disinstallando il gioco cioè non so se l'hai visto cioè se lo sai io volevo disinstallare il gioco e reinstallarlo per i bug perché non poteva essere una roba ma pensa te ragazzi il trolling mi è riuscito salutiamo random ciao a tutti che figura di merda